Ha mantenuto la promessa al sindaco di Fano Massimo Sere che oggi ha annunciato lo spostamento delle vele pubblicitari e istituzionali dalla Darsena Borghese. Verranno riposizionate in Viale Romagna, in un terreno di proprietà della provincia di Pesero e Urbino che ha dato l'assenso all'installazione. Il ponte della Liscia, così chiamato, è un biglietto da visita, uno degli ingressi della nostra città e quelle vele onestamente non onoravano quel luogo. Mi ero preso l'impegno di spostarle, ovviamente anche qui ci sono delle procedure, le abbiamo terminate e lunedì verranno spostate. La Darsena sarà poi ripulita nell'immediato dal ghaino e dalle erbacce presenti nel futuro, invece in base alle risorse disponibili a bilancio saranno avviati i lavori di riqualificazione e restauro dell'area. Abbiamo avuto dell'attenzione come l'abbiamo avuto appena arrivati per l'ingresso del comune dove era indecoroso. Stiamo ragionando per la pulizia delle tombe malatestiane, abbiamo già fatto dei sopralluoghi, abbiamo già trovato una ditta che è disponibile a fare un dono alla città. Ecco, io magari forse dovrei comunicarle più spesso queste cose, però ecco, anche su questo è un bel risultato, soprattutto che qualifica e valorizza i nostri luoghi storici.